benvenuti su veie games iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdere la priorità acquisita ma che diavolo ehi ehi chi va là sono un nomeato di guerra ehi aspetta ma che uccidevo il vicino sono Frank Frank West ricorda questo nome perché sono famoso del mondo cos'è questa roba? i grandi successi di Frank West no no Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non ne ho bisogno. Ho milioni di fan che sanno che dico la verità. Sì, forse ho esagerato di 5 o 6 zeri. E allora? Grazie. Grazie a tutti. C'è il governo dietro Will and Matt, non capite? Sono stati i federali, era tutta una cospirazione. E va bene. Spegnete il proiettore. Ho visto abbastanza. Grazie a tutti. Sai che c'è? Ti sei divertito abbastanza. Ora posso andare? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il presidente mi deve dare una medaglia, ma nell'avvicinarmi in ciampo gli do come un pugno. Sul collo. Sul collo. Sfiga? Hai colpito al collo il presidente con un pugno. Ti diverti a farmi passare da coglione, vero? Perché non fai la giornalista di gossip? Ah, vaffanculo. Oh, scusa, argomento delicato. I giornalisti di gossip ti hanno ucciso i genitori. Dove hai detto che andiamo? Senti, lasciami spiegare. Dovevamo andare a giocare a minigolf. Con tutto il rispetto, professore, non posso credere che tu te la sia bevuta. Io amo il minigolf. Sì, eh, ascolta. C'è una base militare segreta. Oh, ti prego, un'altra stronzata cospiratoria da sito web. Non è una stronzata. Stanno conducendo ricerche scientifiche illegali. Torna indietro. Con cavie umane, Frank. Torna subito indietro. Frank! Cazzo! Frank! Quando parlavamo dopo l'elezione, ti ho mai detto di voler tornare a Willamette? Andrà tutto bene. Devi calmarti. Sì, disse lei prima che scoppiasse il finimondo. Ah, mi ripeti sempre che scatto foto atroci con il cellulare. Ed è vero. Quindi, da chi dovrei imparare se non da un fotografo di fama mondiale? Quella è la mia. Sì, era nel tuo armadietto. Che era chiuso. Non molto bene. Ascolta, la fonte parla di un continuo traffico di cadaveri. Esperimenti sugli umani, ex basi missilistiche. Dai, Frank, come fai a dire di no? No. Frank, è la nostra chance. Ti prego. Va bene, ma guido io. Cosa? No, la macchina è mia. No, la macchina è stata fatta, la macchina è stata fatta, la macchina è stata fatta. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok. Regole di base. La storia ora è mia. Cosa? Tu sei qui per imparare. Due minuti fa non era la mia storia. Sei qui per osservare e imparare come un vero giornalista d'inchiesta lavora sul campo. Con solo appunti, fotocamera e palle d'acciaio, ok? Wow. Numero due, la tua fonte parla di esperimenti illegali su esseri umani, quindi forse c'è della gran merda che non vuoi vedere. Ah sì? Se succede, tu mantieni la calma. Tu prendi appunti, io scatto le foto, ricostruiamo la storia e filiamo. Ok. Sei tu a controllare la storia, non il contrario. Capito. Occhio sull'obiettivo, ok? Ok. Se ce la fai, la prossima è tua. Pugno. No. Forza, dammi il pugno. Eh, io... No, non posso. Ce la tiriamo, eh? Va bene. Forza, al lavoro. Vittà, ci ho schizzato. La tua fonte ti ha detto come entrare? Sì. C'è una tessera di sicurezza nascosta in una rimessa da qualche parte. E va bene, ormai siamo in ballo. Lì c'è una rimessa. Vado a controllare. Tieni gli occhi aperti. Certo. Fidati di me. Trovata. E adesso? Apri una porta qui vicino. Andiamo. Sì, però rallenta, Nancy Drew. Non voglio farmi sparare, ok? Ehi, sta giù! Oh, merda! Dentro c'è il caffè, forza. Non andranno da nessuna parte. La storia del centro per i servisti non regge. Quei tizi erano armati di tutto punto. E perché portavano quelle maschere? Le ho visti anch'io. Senti, perché non ti calmi? Di qualunque cosa si tratti, giuro che scopriremo la verità. È una promessa. Oh, sì? Lo sapevo che sei ancora il buon vecchio Frank West. Stasi! Oh, sì? aspetta ho sentito qualcosa scatta qualche foto ah si? tu dici? ho già una certa esperienza rianza in materia sai? ora penso solo a quello che cazzo ci facciamo? siamo ancora qui porca vacca Frank che diavolo sta succedendo qui? andiamo a scoprirlo le telecamere sono sferte il mio contatto deve averle disattivate oh merda Frank è uno zombie ma non mi dire il mio analista dice che il benessere è relativo il suo tono non mi tranquillizza ho trovato un pannello di controllo dovrò aprire tutte le celle e farti uscire ci avrei giurato scopriamo una cella per volta sei pronto? si sono pronto più o meno merda 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 ehi avresti potuto affisarmi? ti ho affisato ehi avresti potuto affisarmi? ehi avresti potuto affisarmi? ehi avresti potuto affisarmi? spacco i culi come hai bei tempi forse ho trovato qualcosa dai un'occhiata lì dentro ma questa non è male ma questa non è male non è male ci ho trovato che è la tua è la tua ma questa non è male ma questa non è male perchè è non è male ma questa non è male ti ho trovato ti ho trovato Ottimo tempismo! Come ai vecchi tempi! Aspetta! Scendo subito! Vic, ti perdono. Questa storia è molto meglio del mini-golf. La sensibilità non è il tuo forte, eh? Sono solo zombie, Vic. Lo so, ma un tempo erano persone. O loro o me. Senti, perché non pensiamo a chiudere questo reportage? Sì, d'accordo. Conta su di me. Bingo! È una specie di laboratorio. Tu prendi appunti. Io penso a scattare foto. Niente da fare. Credo che questi apparecchi servano a stimolare le modificazioni cerebrali. Oh, ma senti. Anche tu studi medicina? No, sono appassionata di fantascienza. Credo che fossero questi i soggetti delle operazioni. Esiste già un vaccino per lo zombismo. Qual è il punto? Qualunque cosa sia, dai brividi. Comportati da professionista. Questi intendi fotografarli, vero? Serve uno scatto migliore. Serve un'inquadratura migliore. Zombrex. Se vieni morso, questa roba inibisce lo zombismo. Già, ma ormai sono tutti immuni al parassieta. Merda, dove hanno trovato questi zombie? Senti, non ci servono tutte le risposte. Dobbiamo solo vendere una storia. Forza, non possiamo restare qui. C'è troppo buio. Attiva il filtro notturno. Il cosa? Oh, ho aggiunto dei nuovi filtri alla tua fotocamera. Dopo che hai finito di borbottare come un pensionato, fai una prova. Ah, niente male. Niente di interessante. Sto cercando, sto cercando. Sembra una sala di videosorveglianza. Ok, diamo un'occhiata. Fisicamente non presenta sintomi, è un progresso notevole. Per il resto, niente novità. Perché me lo mostri? Non voglio progressi, voglio sia perfetto. Quello che il cliente si aspetta è... Questo è il genere di progetto che richiede una vita di ricerche. Ora, i progressi che vede sono... Se non rispetta le scadenze, dottoressa, sarà sostituita. La metto insieme agli altri. Ducano esperimenti sugli zombie. E li tengono segregati. Ma te che? Per osservarli. Stanno cercando di creare qualcosa. Merda. Frank, fermeremo questi bastardi, vero? Ehi, noi scoviamo la storia, filiamo via e passiamo a riscuotere. Nient'altro. È questo il nostro lavoro. C'è qualcosa che vorresti dire? Come sempre. Pessima nottata per uscire senza mutande. Ah, Frank, che schifo. Merda, serve un codice per entrare. Fammi indovinare. È un'altra modifica alla mia fotocamera, vero? Me lo dicono tutte le donne. Vastuano. Vastuano? Vastuano. Vastuano. Grazie a tutti. Soggetto 3-2-4-B-2-1. Puoi cominciare? Soggetto 3-2-4-B-2-1. Puoi cominciare? Sta soffrendo. Già, e il solo modo per procedere è attraversare questa sala. Chiusa. Non riusciremo mai a passare finché... finché lei si trova lì. Ehi, bruttezza! Qui ci sono dei comandi. Interessante. Chi vuole una grigliata? Nessuno? Che cazzo, Frank? Questa roba è atroce e tu non sai fare altro che scherzare. No, non ci sto. Io ho fotografato e profondamente riflettuto su... un sacco di cose. E non importa niente di queste persone, vero? Senti, troviamo quello per cui siamo venuti e andiamocene di qui. Ok? Ok? Sì, è Frank Caput. Oddio. Guarda che roba. Devo fotografare tutto. Eh, devo avvicinarmi. No. Ok, Frank. Scatta le foto e squagliatela. Coraggio. Hanno tutte la stessa faccia. Già. Una famiglia numerosa, eh? Piantala. Ok, non perdiamo tempo. Devo scattare queste foto e filare via. Sai cos'è questo? Sì, risultati di test sul DNA. C'è qualcosa lì dentro. Se vuoi vedere cosa contiene, prova con l'analizzatore di spettro. Ce n'è un altro? Cosa hanno in mente questi bastardi? Stanno clonando degli esseri umani. Carne da macello per la ricerca sugli zombie. Sono tenuti segregati e usati come cavi. Vic, questa storia ci farà vincere tutti i premi del mondo. Quindi ti prego, per favore. Devi restare concentrata finché non saremo fuori di qui. Io non vado da nessuna parte. Voglio radere al suolo questo posto. C'è qualcuno che piange. Vic! Abbiamo già quello che ci serve. Andiamo, forza! Vic, fermati! Che stai facendo? Da brividi, eh? Ma guarda che foto! Oh, sì, è un capolavoro. Forse testano una versione del virus per un'arma biologica. Metto! Cazzo! Che diavolo fai? Non ce l'ha detto! Ricostruiremo la storia e figliamo! Io non potevo! Non me la sentivo! Stai calma, Vic! Ho detto questo! Stai calma, cazzo! Ora siamo in pericolo! Tu volevi abbandonarla! Volevi usarla! Dobbiamo andarcene qui, lo capisci o no? Per le tue foto! Le tue stupide foto! Io sono un reporter, Vic! Il mio lavoro è raccontare! E se tu non ci riesci, se non riesci a non farti coinvolgere, ti consiglio di mollare e andartene! Merda! Vai, vai, vai! Non è! Non è! Forza di sicurezza sul posto! Dirigersi immediatamente ai tunnel! Sono tale della forza, autorizzato! Porca merda! Può andarmene da qui! Merda! Lì dentro non durerò cinque secondi! Forse qui in giro c'è qualcosa che posso usare! Può andarmene da qui in giro! Welcome! Plep! Hopp! Non! Non! Hiro! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh sì, adesso si ragiona. Figlio di puttana! Kozi! Kozi! Oh no! 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 Sono troppo... di mezza età per questa merda! Porca vacca! Oh no! 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 Cosa sta succedendo? Uccideteli! 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 Oh no! Oh! Oh guarda lì! Chiedo scusa... Ok, spero tu sia all'auto Ok, no, no, Vic, Vic, Vic Oh, merda, 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 merda Oh Christmas tree, oh Christmas tree How lovely are thy branches Oh Christmas tree, oh Christmas tree How lovely are thy branches In the coldest time of the year It's the coldest time of the year It's the coldest time of the year Lovely are thy branches Lovely are thy branches In the coldest time of the year In the coldest time of the year Sono in arresto? Forse Tendente al sì? Beh, dipende Da? Quanto bene collabori Allora, merda, non è mai stato il mio forte Io, beh, comincio a sentire caldo qui dentro Forse un po' d'aria Speravo davvero funzionasse Ok, pare io abbia un po' di tempo libero Di che vuoi parlare? Ah, so già chi sei Colonnello Brad Park Comandante della ZDC Sono aggiornato sugli zombie, grazie mille Ma certo Quindi sai anche che la ZDC nasce per rispondere alle emergenze zombie in America Sì, e per confinare o zittire chiunque sappia la verità Come vedi sono informatissimo E esplosa ancora Willamette Che cosa? L'epidemia I notiziari non ne hanno parlato Da quanto va avanti? Quasi sei settimane Ah sì? È dura zittire un'intera città così a lungo Non per loro Loro? Il Pentagono Oh merda Che hai visto laggiù? Sai cosa ho visto? Nessuno lo sa, Frank Se l'ho scoperto è solo perché qualcuno ha sbagliato E mi ha passato un rapporto segreto Centro addestramento A riservisti? Che io sappia non c'è nessuno a distanza in quella base Tutte le comunicazioni con la città sono interrotte E non aggiornano le foto satellitari da quattro mesi Stanno insabbiando tutto Ma... Questo è niente in confronto Al più grande dei misteri E tu Frank West Insegni in una cazzo di scuola serale E non sei due passi avanti a me in questa storia Ho smesso Hai smesso? Sì Ho smesso Tu sai a quante epidemie ho assistito? Quante inchieste ho fatto? E chi mi ha ringraziato? Eh? Nessuno Mai un grazie Né un fiore Solo una cazzo di rubrica piena di morti National Headliner Award 2006 Hai raccontato la prima epidemia zombie in America Hai fotografato tutto Hai ricevuto medaglie, titoli, lauree Non ho riscausa, ovvio Sì, ma andiamo al punto Tre settimane dopo ho affermato che il Pentagono e il governo americano erano coi voti in quella storia E mi hanno distrutto! Perché allora non avevi abbastanza prove Vieni con me a Willamette Svegliamo le loro stronzate E tu vai fino in fondo stavolta Frank In gioco c'è molto di più di una singola città No Ho smesso Chiunque dia la notizia Può guadagnare un sacco E forse riconquistare qualcosa Anche se... Mi sorprende che un dilettante Ti abbia battuto sul tempo Di che cazzo parli? È una delle tue allieve, no? Oh Ehm... Ehm... Dovresti... Ops Vic È messo insieme uno squadrone Siamo vicini a Willamette Mandate subito una squadra Prendeteli tutti, vivi o morti Oh No 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 Sveglia, sveglia! Sveglia, sveglia! Perché continui a ripeterlo? Cacchio, qualcuno ti ha rotto l'elicottero. Ecco il brillante acume di cui parlano. Trattienili!